Musica Pensioni e previdenza, prima intesa governo sindacati, l'esecutivo stanzia 6 miliardi in 3 anni, l'intervento su flessibilità in uscita, estensione 14esima, equiparazione no tax area, ricongiunzioni gratuite e pacchetto agevolato per precoce e usuranti, furlan ripristinato il patto tra le generazioni. Contratti terziario, si intensifica il negoziato per il nuovo contratto dei 600 mila addetti del settore dei servizi di pulizia e multiservizi, sindacati e imprese chiedono all'esecutivo la sospensiva della tassa sui licenziamenti, entra nel vivo il confronto per il rinnovo atteso dai 300 mila lavoratori dell'industria turistica, stop tecnico al tavolo con le associazioni del sistema COP, al via le trattative per i 50 mila addetti della vigilanza privata. Settore ortofrutticole d'agrumario, i sindacati di categoria CGL e Cisle Will presentano la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale che interessa circa 10 mila addetti, prevalentemente donne. Trattamento economico, welfare, bilateralità, sostegno alla genitorialità, contrasto al dumping contrattuale, tutela della professionalità e del lavoro sagionale, punti cardine della proposta unitaria. Camere di commercio, Fisaskat, Filcams e Wiltux contro il decreto legislativo di riordino delle funzioni e del finanziamento. A Roma la manifestazione nazionale a sostegno dell'occupazione, indetta congiuntamente con le sigle del pubblico impiego CGL e Cisle Will, i sindacati ricevuti in audizione dalla Commissione Attività Produttive di Camera e Senato. Marriott, dalla fusione con la Starwood Hotels & Resorts, nasce la catena alberghiera più grande del mondo, con oltre 5.700 strutture in tutto il globo. La Fisaskat osserva con attenzione le ricadute occupazionali in Italia, dove il gruppo è presente con 46 hotel. Vanelli nelle best practice, anche la valorizzazione delle professionalità. Gucci Retail entra nel vivo il negoziato per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, salario variabile, welfare, lavoro domenicale festivo e organizzazione al centro del confronto. La Casa di Moda del Lusso conferma la fase di crescita, a livello mondiale le vendite al più 7,4%, in Italia più 28%, raso i risultati economici si ripercuotano sui lavoratori. Con la nostra rubrica dei territori faremo tappa in Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sicilia. Bentornati al TG Lab. È intesa tra governo e sindacati sulle prime misure da realizzare sul sistema pensionistico. L'esecutivo mette sul piatto 6 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Sono 5 punti del pacchetto previdenziale, flessibilità in uscita e anticipo pensionistico sperimentale per due anni, con il meccanismo del prestito bancario e assicurativo, estensione della quattordicesima per i pensionati con i redditi più bassi, equiparazione della no-taxarea, ricongiunzione gratuita dei contributi previdenziali e l'intervento per i lavoratori precoce sui lavori usuranti. Questioni che verranno approfondite nella fase 2 del confronto, avviato nei mesi scorsi e che affronterà il tema dell'adeguatezza delle pensioni dei giovani lavoratori con redditi bassi e discontinui. Dai sindacati un primo via libera all'intesa. Per il segretario generale della Cisla, Namaria Furlan, le misure consentiranno di introdurre elementi di equità e di coesione sociale, ripristinando il patto tra le generazioni. Positivo anche il commento della Fisaskat. La concertazione ha consentito di mettere mano ad una riforma penalizzante, peraltro introducendo elementi qualificanti sul riconoscimento dei contributi legati al lavoro effettivo anche non continuativo, ha dichiarato il segretario generale della categoria Pierangelo Raineri. Nella seconda fase del confronto sarà necessario intervenire anche sul secondo pilastro della previdenza complementare, determinante per assicurare pensioni dignitose alle giovani generazioni. ha concluso il sindacalista. Ed ora un aggiornamento sullo stato delle trattative di rinnovo contrattuale nel terziario privato. Al tavolo per il nuovo contratto dei 600 mila addetti delle imprese di pulizia strutturate e multiservizi, sindacati e associazioni imprenditoriali hanno definito un documento congiunto trasmesso all'esecutivo con la richiesta di una sospensiva anche per il 2017 della tassa sul licenziamento, in vista dell'esonero definitivo. Il negoziato è aggiornato al 26 ottobre sui temi del salario, decorrenza e durata, trattamento economico della malattia e contrasto all'assenteismo e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Entra nel vivo il confronto con Federturismo e Confindustrialberghi per il nuovo contratto applicato ai 300 mila addetti dell'industria turistica. Stop tecnico al tavolo con le associazioni del sistema COP per i 70 mila addetti della distribuzione cooperativa sul tema del trattamento economico della malattia. La Fisaskat ha in particolare sollecitato i dati già richiesti sul fenomeno dell'assenteismo denunciato dalle associazioni imprenditoriali di settore. Ha preso il via la trattativa per il nuovo contratto nazionale della vigilanza privata e dei servizi fiduciari applicato agli oltre 50 mila addetti del comparto dei servizi. Sfere di applicazione, rafforzamento del secondo livello di contrattazione, classificazione del personale, stabilità occupazionale nei cambi di appalto, salute e sicurezza e riconoscimento della professionalità con la richiesta di un aumento salariale di 125 euro al quarto livello sono i punti cardine della piattaforma unitaria presentata alle associazioni imprenditoriali di settore. Nel documento congiunto anche la richiesta di intervento su relazioni sindacali, mercato del lavoro, congedi e permessi, infortunio, rappresentanza, bilateralità e welfare contrattuale. Tra i contratti in scadenza e per i quali nel 2017 si avvieranno le trattative di rinnovo anche quello del settore ortofrutticolo ed agrumario dove sono occupati oltre 10 mila addetti, prevalentemente donne. I sindacati di categoria Fisaskat, Flai e Wiltux hanno trasmesso all'associazione imprenditoriale di settore Fruiti Imprese la piattaforma rivendicativa, aumento economico di 85 euro, sfere di applicazione, classificazione, assetti contrattuali, organizzazione del lavoro, welfare, bilateralità, salute e sicurezza. Sono gli elementi qualificanti del documento congiunto che conferma le previsioni del vigente contratto sul sostegno alla genitorialità, contemplando il rafforzamento del trattamento di maternità e paternità. Prioritario per le tre sigle anche il contrasto al fenomeno del dumping contrattuale e il riconoscimento della professionalità dei lavoratori stagionali. I sindacati di categoria Fisaskat, Filcams e Wiltux ribadiscono la ferma contrarietà alle previsioni del decreto legislativo licenziato dal governo nelle scorse settimane sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane. Le tre sigle hanno preso parte a Roma la manifestazione nazionale indetta congiuntamente con le federazioni del pubblico impiego Cigelle Cisle Will. La mobilitazione è stata preceduta da due ore di assemblea nei luoghi di lavoro. I sindacati, ricevuti in audizione alla decima commissione attività produttive della Camera dei Deputati, hanno inoltre sollecitato l'integrazione della normativa con un passaggio sulla titolarità in capa d'Union Camere, il soggetto preposto a definire il piano di riordino complessivo, a trattare sulla razionalizzazione di risorse, mezzi e personale che non si traduca nella drastica riduzione dei diritti ma che preservi la qualità e i livelli occupazionali. Il governo sulla riforma del sistema camerale deve cambiare rotta, ha dichiarato il segretario nazionale della Fisaskat Vincenzo Dell'Orefice. Il rischio concreto è quello di vanificare un patrimonio professionale di eccellenza che sostiene le imprese e i sistemi produttivi locali, ha concluso il sindacalista. La Fisaskat osserva con attenzione le rigadute occupazionali del recente processo di fusione tra la catena alberghiere a Marriott e la Starwood Hotels & Resorts dopo il via libera dell'antitrust cinese. Il nuovo gruppo gestirà oltre 5.700 strutture e un milione di camere in 110 paesi nel mondo. La più grande compagna alberghiera ha raddoppiato la presenza in Asia, Medio Oriente e anche in Italia, dove è presente con 46 hotel. Il nostro auspicio è che da questa nuova sinergia si valorizzi ulteriormente l'operatività della catena alberghiera più grande del globo e che si condividano con le organizzazioni sindacali le best practice a sostegno dell'occupazione nell'industria turistica, anche attraverso la contrattazione integrativa aziendale, ha dichiarato la funzionaria della categoria Cislina Elena Vanelli. Prosegue il confronto con la direzione della Casa di Moda Italiana Gucci per il nuovo contratto integrativo applicato ai lavoratori del retail. Sul tavolo i temi del salario variabile, del welfare e dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle maggiorazioni per le prestazioni domenicali e festive, conciliazione tempi di vita, congedi, permessi e trattamento economico della malattia. I sindacati hanno in particolare sollecitato la rivisitazione della scala parametrale, anche considerato l'andamento positivo del gruppo, che a livello mondiale ha registrato un incremento delle vendite del 7,4%, con una forte ripresa in Francia, Regno Unito, Germania e Italia, dove le vendite nel primo semestre 2016 sono aumentate del 28%. Sarà necessario definire al più presto un accordo che abbia effetti economici anche per il prossimo anno, affinché i risultati raggiunti si ripercuotano sul reddito dei lavoratori, ha dichiarato il segretario nazionale della Fisaskat, Rosetta Raso. Il confronto è aggiornato al 4 ottobre. Per la nostra rubrica dei territori, prima tappa in Lombardia. A Campione d'Italia, soddisfazione in casa Fisaskat per la sottoscrizione dell'accordo che ha scongiurato il licenziamento di 150 lavoratori del casino municipale. L'intesa, che ha incassato l'approvazione del referendum dei circa 500 lavoratori, contempla il rilancio della casa da gioco attraverso la riorganizzazione aziendale e l'estensione dell'orario di apertura al pubblico, con più servizi alla clientela. L'accordo, soggetto a verifica periodica, definisce l'incremento della base oraria, le nuove indennità di gioco e per il lavoro notturno e la revisione dei punti mancia per i croupier. L'intesa consente di scongiurare la mobilità e di mantenere in attività il casino di Campione d'Italia, che senz'altro ha pesantemente risentito negli ultimi anni della crisi economica, ha dichiarato il segretario generale della Fisaskat a Lombardia, Fabrizio Ferrari. Tappa in Liguria, a Sanremo, ha preso il via al confronto tra le organizzazioni sindacali e la direzione del casino municipale per il rinnovo del contratto integrativo applicato agli oltre 270 dipendenti della casa da gioco. In prima linea la Fisaskat Cisle Imperia Savona, con il segretario generale Massimiliano Scialanca e il segretario aziendale Marilena Sameria, che nelle scorse settimane aveva sollecitato il tavolo unico di trattativa. Al tavolo con CGL, Wille Snalk, tenteremo di siglare un rinnovo all'insegna della partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa. Ha dichiarato Semeria, abbiamo accolto positivamente la proposta aziendale sul salario variabile, con la possibilità di convertire tutto, parte del premio, in welfare aziendale. Ha aggiunto la sindacalista. Sul tavolo, calendarizzato con cadenza settimanale, anche l'aggiornamento delle indennità di funzione, con la richiesta sindacale sull'introduzione della indennità feriale notturna, una novità assoluta nel comparto delle case da gioco. Tappa in Emilia Romagna. Bologna si è conclusa nel migliore dei modi, la vertenza dei 123 dipendenti in esubero di Bologna Fiere, che ha visto la Fisaskat Cisle Bologna e Imo l'area metropolitana in prima linea per la difesa dell'occupazione. La direzione del gruppo ha infatti ritirato la procedura di mobilità avviata nei mesi scorsi. Sono state accolte le nostre rivendicazioni che abbiamo più volte portato in piazza, con iniziative di sciopero e mobilitazione contro gli esuberi e le esternalizzazioni, ha dichiarato il segretario generale della categoria Malgara Cappelli. Siamo ora disponibili al confronto sul futuro della Fiera di Bologna, anche attraverso il contenimento dei costi di gestione, nell'ambito di un piano di rilancio aziendale che preservi tuttavia i livelli occupazionali, ha concluso la sindacalista. Tappa nelle marche. La Fisaskat Pesaro Urbino ha espresso soddisfazione per l'accordo siglato tra i sindacati di categoria e la Confcommercio locale sulla detassazione dei premi di produttività delle imprese commerciali che applicano il contratto nazionale del terziario distribuzione e servizi. Dunque un'aliquota agevolata che riduce il cuneo fiscale con la possibilità di convertire tutto parte del premio di produttività, fino a 2.500 euro, in servizi di welfare completamente detassati. Un importante passo avanti della fiscalità a beneficio di lavoratori e imprese e che dimostra l'utilità dei corpi intermedi, efficiente cerniera tra Stato e sistema imprenditoriale, ha dichiarato il segretario della categoria Cislina, Domenico Montillo. Tappa in Puglia. Lecce, i sindacati di categoria Fisaskat, Filcams e Wiltux hanno riacceso i riflettori sulla vertenza che ha coinvolto i 120 lavoratori della società partecipata della provincia Alba Service, senza stipendio da circa 15 mesi. Le perplessità delle terzicle anche sul futuro occupazionale dei 28 assistenti sociali che potrebbero essere ricollocati negli ambiti territoriali. Ancora una volta a pagare a caro prezzo lo stallo della politica, il groviglio normativo sono i dipendenti, ha stigmatizzato Alessandro Monosi della Fisaskat Cisl di Lecce. Dopo 15 mesi di stipendi arretrati è un futuro grigio, ora vogliamo chiarezza e certezze una volta per tutte, ha concluso il sindacalista. Chiudiamo con due notizie dalla Sicilia. A Messina la Fisaskat territoriale ha promosso la mobilitazione dei dipendenti della Comfort Service, una delle società che ha in gestione il servizio di pulizia dell'Università di Messina. La protesta contro la riduzione dell'orario di lavoro decisa unilateralmente dalla direzione aziendale, in contrasto con le norme di legge del contratto. A tutt'oggi il personale e le loro famiglie risultano gravemente danneggiati da tale comportamento illegittimo. Alcuni dipendenti part-time si trovano peraltro a fare i conti con la riduzione dell'orario di lavoro, al di sotto dei minimi contrattuali, ha stigmatizzato il segretario generale della Fisaskat di Messina, Salvatore D'Agostino. L'attenzione della categoria Cislina è alta anche sull'avvertenza che ha coinvolto i 20 lavoratori del supermercato spaccio alimentare di Giardini Naxos. L'azienda ha sottoscritto un precontratto con un nuovo gruppo, ha spiegato D'Agostino. I lavoratori rimangono in attesa di comunicazioni, attendono di sapere se dal 1 ottobre saranno regolarmente in servizio e se la società intenderà operare nel rispetto degli accordi regionali, garantendo i livelli occupazionali, ha aggiunto il sindacalista. Sulla vertenza è intervenuta anche la segretaria generale della Fisaskat Sicilia, Mimma Calabrò, che ha sollecitato un incontro alla distribuzione Cambria-SRL, volto a valutare le rigatute dell'affitto di ramo d'azienda e a definire la salvaguardia dei livelli occupazionali. Ci salutiamo, vi ricordiamo che è possibile consultare il TGLab anche su TGR Lab, Facebook e Youtube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter, at Fisaskat. Per segnalazione e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo e-mail redazione tglab-fisaskat.it. Grazie per essere stati con noi e arrivederci la prossima settimana. Sei un lavoratore stagionale del turismo? Se hai perso il lavoro o sei nello stato di disoccupazione involontaria e puoi far valere negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, hai diritto alla NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego in vigore dal 1 maggio 2015. Il termine per la presentazione è di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o del periodo di maternità o di malattia e infortunio, qualora questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato. La Fisaskat CISL ti aspetta in tutta Italia per aiutarti a compilare e presentare in modo veloce e semplice la tua domanda di disoccupazione. All'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel commercio, turismo e servizi. www.fisaskat.it